Vi abbiamo fatto vedere come fare gona a ruota e in base a quella lezione vi voglio far vedere oggi la recensione di questo vestito con gona a ruota. È un tema che potrete usare spesso. Vengono fuori dei vestiti molto eleganti e femminili. Avrete sempre un aspetto meraviglioso con dei vestiti così. Guardate, gona a ruota. La mezza ruota è meno svasata, ha meno faldi. La ruota, come vedete, è una gona ampia e bella. Cinturino inserito qui, la pants fatta così al centro e con una manica molto particolare. Qui abbiamo fatto la manica del tema, non è così semplice come sembra. È fatto così con due pieghete. È stessa manica che vi ho fatto vedere con la differenza di queste due pieghe qui che ci danno questa bella forma alla manica. Piccolo, cioè, vedete la forma della manica com'è. Piccolo spacco qui davanti, bottone velo a tono con il colore, anche se piccoli dettagli così fanno differenza. Tessuto cotone misto seta, con un disegno un po' rialzato in alcuni punti. E' un tessuto estivo. Cinturino integrato qui nella cerniera, nella cucitura, vedete, è inserito. Nel nostro corso della Gona Tubino vi faremo vedere come cucire la cerniera invisibile, chi non lo sa. Abbiamo qui la nostra amatissima spalla piccola. Rende al vestito perfezione. Preso come base sopra il corpetto del sistema delle dieci misure. Come costruire il corpetto, come costruire la manica, vedrete nel corso. La manica così, provatela prima su un tessuto tela, per vedere come vengono queste pieghe qui. Buona rotta, che si unisce sulla linea vita con il corpetto. Alla prova la linea vita, ovviamente, dovete correggerla, che venga tutta orizzontale, uniforme. Ed ecco il vestito pronto. Molto bello e raffinato. Un vestito così non necessita di tanti altri accessori, piccoli ma belli. Una borsa chiara e, prego, siete già pronte. Questo è un modello estivo. Si può fare autunnale, o in lana, o in gergio, o in mistolana, qualcosa di più caldo. Fate manica a tre quarti, magari, e avrete vestiti per la stagione più fredda. Ovviamente vengono abbinati questi vestiti con delle giacchine molto corte. Un vestito a rotta non permette le giacche lunghe fino al bacino. Giacchine molto corte e accurate. Ovviamente scarpe con tacco, non necessariamente molto alto, però lo stesso che ci sia un po' di tacco. Per aver fatto qui il cinturino, vi metterà in risalto la vostra linea vita. È molto bello avere vestiti tagliati in vita così. Vi auguro di variare i vostri armadi con questo tipo di vestiti. Lavorate di fantasia, sentitevi delle star, perché anche gli altri vi vedranno così. Saluto tutti. Con voi sono stata io, Pausci Irina Michalovna. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.